Ciao a tutti, sono Alessandro. Oggi faremo insieme un allenamento a circuito da fare comodamente a casa. L'occorrente necessario è semplicemente un tappetino, asciugamano, poi per il resto lavoriamo a corpo libero. Facciamo sia un lavoro muscolare per la parte superiore e per la parte inferiore, sia un lavoro cardio. Abbiamo un totale di 24 minuti, escluso il riscaldamento, quindi pronti a cominciare. Facciamo un'introduzione di riscaldamento, poi partiamo subito con il nostro circuito. Grazie. 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 Bene. Riscaldamento fatto. Vi ho fatto 3 minuti buoni. Partiamo subito col circuito, saranno 24 minuti, pochissime pause, pochissimo tempo di recupero, 4 esercizi e 4 esercizi cardio. pronti via il Grazie a tutti. 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 a tutti. , a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. , a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. , a tutti. , a tutti.